Il codice salva Raggi si è detto così perché la norma che prevede che in caso di avviso di garanzia non ci sia più l'automatismo e quindi l'obbligo di dimettersi sembra tagliato a misura per far sì che nel momento in cui arrivi l'avviso a Virginia Raggi lei comunque possa restare al suo posto però anche lì c'è un tema cruciale perché di nuovo l'unico dovere dell'amministratore è quello di informare Beppe Grillo e i probbiviri che poi deciderà però di nuovo torno a quello che dicevo prima ancora una volta è tutto nelle mani di Beppe Grillo e di Casaleggio cioè decide lui a quel punto se Virginia Raggi o chi per lei deve restare oppure deve andare a casa quindi torniamo sempre al solito punto, qual è la democrazia interna di questo movimento? Non c'è, c'è il comitato dei probbiviri, c'è il comitato di appello, c'è il garante No, no, è vero, sono degli organi, comunque primo punto, non è vero e non è mai stato vero che nel Movimento 5 Stelle all'arrivo dell'avviso di garanzia c'era un obbligo di dimissioni non è scritto da nessuna parte È stato sempre detto però? No, non è stato mai detto che c'era l'automatismo se mi trovo una sola dichiarazione dove c'è scritto che c'era questo automatismo negli ultimi 4 anni magari ci vediamo la prossima volta Sì, ma glielo trovo perché non ho tempo, ci vediamo promessa perché se trovo le dichiarazioni No, non è stato mai detto che c'era l'automatismo No, non è stato mai detto che c'era l'automatismo Noi chiediamo sempre le dimissioni di persone che sono sotto indagini e rivestono cariche pubbliche No, non è stato mai detto che c'era l'automatismo No, non è stato mai visto Grazie a tutti.